Si corre anche il rischio però che i centri vaccinali vengano ridotti perché di vaccinazione non se ne vuole più sentire. Molta gente, facciamo riferimento agli immunodepressi, facciamo riferimento a coloro che devono effettuare la terza dose, ai bambini, non si regano ai centri vaccinali che stanno ore intere lì ad aspettare ma senza che nessuno vada a vaccinarsi. La situazione non è preoccupante, non è preoccupante ma è critica. Per cui l'invito che parte dal dottore Lombardi e da questo servizio che stiamo effettuando è che è necessario effettuare la terza dose, che deve fare la terza dose, vaccinarsi per coloro che non si sono ancora vaccinati, vaccinarsi per coloro che hanno purtroppo problematiche che esulano dalla normalità, parliamo degli immunodepressi, coloro che sono più debole, che hanno necessità di difendersi da questo virus che purtroppo alligna ancora nella nostra società. Siamo in zona bianca intanto perché la zona bianca non viene determinata fortunatamente soltanto dal numero dei contagi ma anche dal numero dei posti letto occupati e soprattutto dai posti in terapia intensiva. Fortunatamente quel parametro ci aiuta molto e quindi chiaramente noi veniamo considerati ancora zona bianca perché ha un incremento che purtroppo c'è ed è quotidiano del numero dei contagi che nella migliore delle ipotesi si mantiene stabile però su un numero totale che comunque è superiore a quello che ci faceva immaginare le aspettative che avevamo almeno un mese fa. Secondo bisogna dire che tutte le misure adottate non sono state utili a convincere purtroppo quella fetta di popolazione che non vuole vaccinarsi, anche i minori, soprattutto i bambini, non abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato e quindi stabilito e poi purtroppo notiamo anche che i fragili per le quarte dosi, molte terze dosi resistono, non vengono e noi non riusciamo a capire come mai questo avvenga. Probabilmente, che ne so, il fatto che il contagio comunque è ripreso in qualche modo condiziona la scelta dei cittadini che tutto sommato dicono vabbè, magari non mi vaccino tanto, comunque prima o poi sarò contagiato. C'è stato un momento in cui, diciamo, la direzione pensava di chiudere i centri vaccinali. Devo dire che proprio ieri, in occasione dell'ennesima videoconferenza che periodicamente facciamo, la direzione ci ha comunicato che dal primo aprile i centri resteranno aperti un solo giorno a settimana. Ovviamente dovesse migliorare la situazione nel senso del flusso ai centri e quindi magari con un aumento dei presenti chiaramente aumenteremo anche il numero di giorni. Dovesse invece, purtroppo, andare avanti questa, diciamo, situazione, probabilmente in prospettiva qualche centro potrebbe anche essere chiuso. Andiamo a lanciare un appello a coloro che non hanno effettuato la terza dose, agli immunodepressi, cioè a quelli che hanno necessità di vaccinarsi? Io credo che tutti dovremmo capire che il vaccino non ha risolto il problema Covid, ma ci ha dato una grossa mano. Nessuno sa e può dire cosa sarebbe accaduto in assenza di questo programma di vaccinazione. Credo che sia estremamente utile che tutti facciano questo piccolo sforzo di vaccinarsi, i fragili magari farsi anche la quarta dose, i bambini. Insomma, se noi riusciamo a coprire anche questa parte di non vaccinati, probabilmente in futuro questo problema sarà ridimensionato di molto. Grazie a tutti.